Fabrice Mumba e Pier Mario Morosini, entrambi calciatori, entrambi centrocampisti, entrambi vittime di arresto cardiaco durante una gara di calcio. Il primo è sopravvissuto e potrà addirittura tornare a giocare. Per il secondo non c'è stato nulla da fare, è morto tra le braccia dei suoi soccorritori. Il tragico epilogo del caso Morosini però non è l'unica differenza con l'attacco di cuore che ha colpito Mumba. Quest'ultimo ha avuto la fortuna e non soltanto perché potrà raccontarlo, di essere assistito da soccorritori muniti di defibrillatore, strumento che di fatto ha permesso al suo cuore di tornare a battere. Oggi in Italia l'uso del defibrillatore è diventato obbligatorio, finalmente potremmo dire, ma sono ancora in tanti a non saperlo utilizzare. A Napoli la RS Ravenna, centro di formazione e accreditato Salvamento Academy, che opera su tutto il territorio nazionale, ha tenuto nei giorni scorsi corsi di formazione BLSD, Basic Live Support with Defibrillator e primo soccorso aziendale con e senza integrazione dell'uso del defibrillatore, ma ha anche messo in campo un progetto per la diffusione delle manovre di soccorso in caso di soffocamento per ostruzione da corpo estraneo delle vie aeree in età pediatrica da 0, 8, 12 anni. Il programma prevede un percorso formativo semplice, studiato, appositamente per ricevere un addestramento di base sul primo soccorso BLS e sulla rianimazione cardiopolmonare su adulto, bambino e neonato. All'interno del modulo di insegnamento sono state incluse le manovre di disostruzione da corpo estraneo. Il corso rilascia un brevetto che ha una durata di 24 mesi. Ai nostri microfoni abbiamo ascoltato Davide Pokai, istruttore nazionale Salvamento Academy. I nostri corsi prevedono anche l'integrazione della disostruzione, che è un tema molto importante, se ancora più principale, sia pediatrica, sia nell'adulto e anche nel bambino, che è pur una questione purtroppo più di cronaca che riguarda tutti i giorni. I nostri corsi si sviluppano in una prima porzione di teoria, perché è importante sapere e saper essere soprattutto, ed una parte pratica che integra con il saper fare e tutte e tre danno la chiave della formazione e dell'informazione, che noi promulghiamo più di ogni altra cosa. Fortunatamente il defibrillatore si sta allargando a macchia d'olio ed è importantissimo perché il solo massaggio cardiaco, le sole compressione toraciche non servono, non aiutano al 100%. Il defibrillatore è lo strumento principale per questa rianimazione. Quindi è importantissimo che i nostri brevettati lo sappiano utilizzare, sappiano fare e sappiano fare soprattutto bene, perché saper fare, non essere un semplice testimone è la cosa principale, ma soprattutto saper fare bene perché è più importante fare poco ma bene che non fare nulla o fare male.